trasformo i miei familiari da maschio a femmina e viceversa e li do un voto ok ora trasformeremo mia sorella Greta in mio fratello Greto ho paura non siete pronti fidatevi ecco mio fratello Greto assomiglia a me è perfetto perché in famiglia avevano già un cesso e serviva anche un bidet voto 5 mio padre Franco è pronto a diventare mia mamma Franca vediamo sono rimasto traumatizzato ecco mia mamma Franca io non ho parole sembra un incrocio tra una tartaruganigia e un veloci raptor voto 3 e per ultima ma non per importanza mia nonna Ida che non vede l'ora di diventare mio nonno non ci posso credere cioè sembra Babbo Natale comunque voto 10 perché sennò non cucina più grazie a tutti